Noi non abbiamo mai chiesto soldi, mai aiuti, avevamo bisogno di aiuto, tra l'altro non avevo completato, mai arrivati. La richiesta di aiuto della famiglia Guariglia di Montecorice per i loro due figli autistici non è un caso isolato. Altre famiglie cilentane si trovano a dover assistere i propri figli che richiedono di cure speciali in totale isolamento. Assunta Taddeo è di Novivelia e attraverso le nostre telecamere vuol raccontare anche la sua storia. In riferimento agli assegni di cura ci dice, anche io, genitore di una ragazza disabile, ho circa 22 mesi di arretrati. Insieme ad un gruppo di genitori stiamo provvedendo a denunciarli presso le autorità competenti. L'UNETI è stata accreditata una mensilità relativa al mese di luglio del 2022 da fondi ricevuti a marzo e relativi al 2021. Addirittura sono stati liquidati gli eredi dei pazienti deceduti e noi stiamo ancora aspettando. Parte dei fondi del 2022 sono stati stanziati già dalla regione Campania, ma ancora non liquidati dal piano di zona S8 con Vallo della Lucania Comune Capofila. È una situazione vergognosa, ribadisce la signora Taddeo. Se abbiamo a che fare con persone poco competenti, forse qualcosa va rivisto. Solo due giorni fa a denunciare una situazione simile è stata ai nostri microfoni la signora Maria, mamma di Alfredo e Giovanni, due fratelli gemelli di 17 anni, entrambi autistici. Avrei dovuto ricevere una certa somma in base ad una visita che loro avrebbero dovuto sostenere all'asile di Agropoli. E questa visita è stata, in effetti, ha rivelato che la loro disabilità era a livello gravissimo. Perché i livelli erano due, grave e gravissimo. Allora, noi siamo rientrati tra i gravissimi. Nonostante ciò, siamo, come ho detto prima, in attesa da 22 mesi che non riceviamo gli assedi. 22 mesi di arretrati, diciamo, sono di arretrati. L'ultima mensilità è stata a novembre, una sola. Chi dovrebbe dare questi soldi? Piano di zona. Sì. Di valore locale. Sì. Questo qua. Piano di zona S8. E questi soldi non li avete ricevuti? Man mano. Una parte, una parte, per sincerità, una parte, una parte. Ma adesso vi chiedo, l'esigenza dei ragazzi, secondo il fabbisogno familiare, ce la fate? No.